Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, attenzione, super attenzione, perché oggi altro che metro, il chilometro, Nicolino, abbiamo tante di quelle carte da giocarci, quindi voi giocate subito la vostra, iscrivetevi al canale, un bel like al video e commentate la campanella per essere raggiunti e raggiunte. Ovunque voi siate, noi siamo qua per voi per raccontarvi la verità, caro il mio Mirko, la verità nient'altro che la verità che ti fa male, lo so, e nessuno vuole accettare, perché insomma, se prima ero da solo con la mia fonte, adesso siamo in due con le nostre fonti e quindi diciamo che sono più dirette di quelle degli altri, mettiamole insieme e raccontiamo ai tifosi cosa veramente è successo nel post. Quindi partiamo dalla fine, partiamo dalla fine del post partita, non è successo sostanzialmente niente, è successo che Massimiliano Allegri, così come si fa, come fa ogni allenatore a fine partita, entra nello spogliatoio e fa i complimenti al gruppo, bravi ragazzi, complimenti per la vittoria, e poi ovviamente si sofferma su alcune cosette che poi vengono approfondite al primo allenamento successivo al post partita. Ragazzi dovevamo gestire meglio il secondo tempo, dovevamo stare un po' più alti, dovevamo cercare di fare un possesso migliore per scaricare un poco di tensione e per alleggerire la pressione da parte della Fiorentina. Chi è entrato o non è entrato benissimo doveva fare di più per giocarsi le sue chance di poter avere la titolarità nelle prossime partite, quindi discorso normalissimo con i calciatori. Quindi nessuna sceneggiata, nessuna furiata, nessuna irata, però come si collega questo con i dirigenti e quindi par di capire il giunto Lieman? E perché se Allegri dice ad alcuni dei suoi giocatori, guardate che siete entrati male, vuol dire che in questo momento ritiene di non avere delle alternative valide. Ricordiamo che la Juventus non ha fatto un mercato in estate, ha preso solamente UEA, e a gennaio ha preso Thiago Jalò, redice da un crociato, che quindi è un giocatore tutto da verificare, e ha preso Carlos Alcaraz, che è una scommessa. Massimiliano Allegri ovviamente preferiva avere uno barra due innesti di qualità e di esperienza per gestire meglio la seconda parte del campionato. E quindi uno giustamente dice guardate che se abbiamo rischiato nel secondo tempo è perché io vi avevo chiesto delle cose, poi invece mi avete dato altro. In più c'è questa questione, io ieri sera ho fatto un sondaggio, ma è normale per una Juventus in ricostruzione avere il vice DS che ha già l'accordo con un'altra squadra e quindi potrebbe partecipare a trattative che poi conoscerà lavorando per un'altra società. C'è una ricostruzione fantasiosa, ma magari neanche troppo potrebbe essere, che incrociando i due insieme qualcuno potrebbe aver detto ma tu cosa ci fai qua? Allora, io chiedo, chiediamolo ai nostri follower, no? Cioè, secondo voi è normale che il futuro direttore sportivo del Napoli segua attualmente ancora le trattative della Juventus? Per capire, no? Perché qualcuno mi ha risposto, Claudio, questa la giro a te. Eh, ma tanto, mica la Juventus e il Napoli avranno obiettivi mai in comune di mercato? No! No! Non ne avranno. Mai! Io vi posso dire, ad esempio, perché lo so, che Kvaraschelia era vicinissimo alla Juventus. E certo. Comparatici ne parla con Giuntoli, a Giuntoli viene un'idea. Giuntoli ovviamente, magari lo stava già seguendo per punto suo, e attenzione. Però, quando due di esse si incontrano, sai, secondo te com'è? Ah, per me è fortissimo. Ah, sì, lo stiamo seguendo anche noi. Per me è fortissimo. Poi va a Napoli. E allora, è vero che tra di loro anche di esse concorrenti si parlino e ci siano dei rapporti, no? Che vanno al di là dello stretta professionalità. Però non è normale, secondo me. Allora, te la giro così. È ambiguo, è ambiguo che... Te la giro così. Te la rivolto così. Non so come la giri. Manna doveva già essere il... No, ma perché devi trarre subito le conclusioni? Metro Nicolino. No, non volevi dire così. Centimetro dopo centimetro per arrivare al metodo. Subito. No, te la rigiro così. Te la rigiro così. Non è... Beh, semplicisticamente il finale è quello. Cioè, se Manna si sa che va a Napoli, grazie, arrivederci, svuoti l'armadietto e aspetti di andare di là dall'altra parte. Questo dovrebbe essere... Ah no, ma io ti aggiungo, aspetta, ti aggiungo riportandotela così e cioè, ma non è tanto quello il problema, perché come hai detto adesso tu, Mirko, poi si parlano, si conoscono e tutto qua. Ma in questo momento della Juve, cioè da oggi in poi, o meglio dall'urlo in tribuna di Juve Lazio, di Manna giunto lì al gol della Juve in poi, qui si decide un futuro che è aperto a 20 miliardi di soluzioni. Quindi in questo momento che si deve pensare, argomentare e discutere tra dirigente, allenatore o futuro allenatore, giocatori o futuri giocatori, adesso che devono venire fuori le strategie, secondo me non è il caso che le sappia chi deve andare a Napoli. È un po' ambigo, ma allo stesso modo noi potremmo dire che in questo momento qualcuno di quelli che deve raggiungere Giuntoli, no? Facciamo anche il discorso inverso per far capire che non è una questione che riguarda solo la Juve. Se c'è un attuale tesserato del Napoli che a giugno arriverà alla Juventus per lavorare con Giuntoli, non è normale neanche quello. Cioè, vale anche il discorso per far capire... No, noi del Napoli non ce ne frega, ce ne frega la Juve. Esatto, esatto. Quindi, che ci facciano capire come funziona. C'è un'ambiguità che secondo me... Allora, sembra si stia risolvendo una delle ambiguità che aveva la Juventus. Cioè, che Giuntoli da Football Director dovesse comunque dare conto a qualcun altro, che in realtà nell'organigramma non è sopra di lui. Nel momento in cui sembra che Giuntoli stia avendo maggiore potere, si stia portando tutto il suo staff, paradossalmente debba portarsi dietro uno che poi andrà a fare le stesse trattative per un'altra squadra. E questa... Cioè, abbiamo risolto un'ambiguità e ce ne stiamo portando dietro un'altra. Cioè, quando si risolvono le ambiguità, risolverle tutte. Allora, vediamo se possiamo accordarci sul finale di questa bella discussione e dare questo messaggio ai tifosi della Juve. Cari tifosi e tifose della Juve, l'allenatore, cioè Massimiliano Allegri, sia che sarà, magari per l'ultimo anno ancora allenatore, sia che non sarà più a giugno allenatore della Juve, in questo momento sta lavorando per la Juve, non per gli interessi suoi, perché sta dicendo in questi confronti, signori, che Juve facciamo o fate l'anno prossimo? Perché così non è normale. Però qualcuno ti potrebbe dire, ma non è un problema suo, perché qualcuno me l'ha detto. Questo si vedrà. Attenzione. Attenzione. Ti ho dico, questo ha cosiddito. Ai commenti... No! Ai commenti... Lasciamo ai commenti. Lasciamo ai commenti. Lasciamo ai commenti. Senti, caro Mirco Nicolino, adesso ti devo riportare sulla partita, perché tu te ne sei uscito con la tua classica frase. Ma prima, prima, volevo farti il solito quiz del Metro Nicolino, per vedere se sei attento. Sai che il signor Mancini ha fatto questa esultanza nel derby, prendendo questa bandiera della Lazio col topo, e quindi... Il procuratore sportivo, pur di non occuparsi della Faresi Man, si occupa di tutte le altre cose. Quindi adesso c'è anche questa cosa di cui occuparsi. Poi diciamo come finirà. Poi gli diciamo ai tuoi come finirà, perché lo so già. Però devi anche rispondere all'indovinello. Indovina nell'articolo in cui si descrivono i giocatori ultras alla fine della partita, provocatorie. La foto di quale giocatore ci potrebbe essere, tra i tanti che provocano la fine, magari l'interno? Ne hanno messo uno con la maglia bianca e nera? Beh, ovvio, ovvio. Ah, è strano. Di solito non le fanno queste cose. Chi c'era? Maresca con le corna. Maresca con le corna. Vedi, che strano. Come finirà Mancini? Atteggiamento. Multa e via. Allora, basta. E ti dico, per il codice etico di Coverciano, nella migliore delle ipotesi salterà un amichevole pre-europeo e poi giocherà tranquillamente. Bene, quindi tutto nella norma si può fare. Notizie degli ululati contro McKennie ne abbiamo? Nessuna risultava una notizia, ecco, si chiama così, notizia di indagine, non indagine vera e propria, con McKennie che aveva sostanzialmente detto al suo staff di verificare i video che circolavano sui social network, però a quanto pare non hanno dato alcun esito. Non hanno dato, insomma, non hanno tempo per questo. No, 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 sono stati guardati i video. Però non li hanno visti bene, insomma. Loro li guardano. Ma è ritenuto che da quei video i ululati non emergano chiaramente, quindi non... Ah, basta, allora, non c'è il problema. Il problema non c'è, non si pone, non si racconta. Tutto a posto. Senti, Mirko Nicolino, siccome il popolo è... No, ti volevo dire una cosa. Ma di VAR dobbiamo parlare oggi. Aspetta, sto arrivando un attimo. Secondo me... Cosa dobbiamo dire, però? Aspetta, sto arrivando. Sei in fretta oggi. No, no, allora... Due cose sulla partita della Juve la dobbiamo dire. Prima devi dirmi due cose, per cui tu hai detto che sei uscito con il dominio senza palla, ancora con questo dominio senza palla. Eh, ma questa cosa sembra che l'abbia inventata io. Cioè, sul manuale, quando si studia i corsi, c'è un capitolo in cui si spiega che cosa significa il dominio senza possesso della palla. È una strategia di gioco. È una strategia di gioco, valida come le altre, se ti porta alla vittoria. Ora, cosa succede? Succede che Allegri gioca nove partite contro Vincenzo Italiano. Sette volte vince Allegri, una volta vince Italiano, un pareggio. Ora, alla dodicesima giornata, alla dodicesima giornata, c'è stato detto, quando la Juventus e la Fiorentina avevano pari punti, c'è stato detto, anche da trasmissioni note televisive e note più visti, aveva visto Italiano in cosa è superiore a Allegri, farrebbe i suoi giocatori meglio di quelli della Juventus. Ho fatto un articolo, ho scritto, Italiano ha perso sette volte su nove contro Allegri, di cui cinque volte, uno a zero, e sempre con lo stesso copione, cioè con la Fiorentina che fa il possesso palla, la Juve che fa gol, e la Fiorentina che poi, una volta andata in svantaggio, non riesce a recuperare la partita. Eh, ma Italiano non ha i giocatori di Allegri, la risposta. E allora io torno al punto di partenza. Ma quindi Italiano fa rendere i giocatori di più di Allegri o no? Perché se quando sono a pari punti fa rendere di più i giocatori, e invece poi quando perde, sempre perché perde nove volte su dieci praticamente con Allegri, ah, ma sono i giocatori. Allora io vi dico, quando un allenatore perde cinque volte uno a zero, con lo stesso Canovaccio Tatti, vuol dire solo una cosa, che il perdente, cioè quello che ha perso cinque volte, non ha una strategia alternativa. E quindi... Dobbiamo chiudere con una spruzzata di giallo o una di rosso, perché io ho assistito a un Open Guard dove mi hanno spiegato che se è giallo o se è rosso, alla fine è la stessa cosa, no? Ma io le ho viste tutte e due. Allora, guardo la partita del Milan e lì davvero ho trovato il rosso immediato dell'arbitro, è una cosa eccessiva perché il calciatore sta guardando da tutt'altra parte. Ha la gamba alta, però c'è anche l'altro calciatore in volo e poi lui colpisce con la gamba, lo colpisce sul fianco. C'è invece Frosinone Bologna, in cui il calciatore, pur avendo il volto rivolto, scusatemi il gioco di parole, verso l'avversario, lo colpisce con la scarpa in faccia. E lì non viene dato rosso, e invece a San Siro viene dato rosso. Ma quello che è scandaloso, e poi, consentitemi, è scandaloso, c'è poco altro da fare, è la spiegazione del VAR. Cioè, mentre parlano tra di loro, ah beh, niente di che, ok giallo, ah ma ha dato rosso? Ah vabbè, allora se ha dato rosso, va bene il rosso. Cioè, è rosso o è giallo? Ci hanno sempre ragione così. Ma non c'è un regolamento. Mirko, sai perché a me viene da ridere? È fantastica. A me viene da ridere, perché quando hanno istituito il VAR, quindi così, subito, appena partito, io dissi, ragazzi, io ve lo dico, ma a me non mi frega niente VAR, non VAR, tanto se io devo vincere che c'ho la squadra forte, vinco, se non c'ho la squadra forte, non vinco, VAR o non VAR. Però io ho detto ai tempi, ragazzi, sarà peggio di prima. E infatti siamo arrivati al paradosso. Ci siamo arrivati. Ti offendi se ti dico che, l'ho detto prima di te, ma non per qualcosa, perché ho partecipato alla sperimentazione durante il mondiale under 17. Lì ci fu una partita in cui io vedi una cosa allucinante e dissi, succedesse una cosa di queste quando il VAR, perché poi ci sono passati tre anni fino a quando è stato istituito davvero, se tra tre anni, quando il VAR sarà ufficiale da noi, succederà una cosa del genere, le polemiche aumenteranno ancora di più. Invece viene istituito il VAR, il primo rigore contro la Juventus, quindi il giorno dopo avete visto il VAR, ha già sanato le ingiustizie, eccetera, 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 eccetera. Io, come un fessacchiotto, scrivo, guardate che ancora non avete visto nulla. Poi improvvisamente vediamo davvero come funziona il VAR nel giro di poche settimane e si svegliano tutti adesso. Ah, così il VAR non ha senso. Da Open VAR, allora diventa Open VAR Masterclass, addirittura facciamo la trasmissione della trasmissione. Esatto, ma infatti non è più non è più per sanare gli errori, è diventato un format. È diventato un format. No, è diventato un format per dare ragione a prescindere all'arbitro e al VAR. Che meraviglia. Vedi quanto conta la comunicazione, se usata prodomo tua. Caro il mio metro Nicolino, noi abbiamo tante carte da giocarci, ma non c'è più tempo. diamo l'appuntamento ai nostri a settimana prossima. Ma perché hai detto di carta? Arrivo, dai. Eh, poche ore arriva l'ultimo arbitrato. Ricordiamo, attenzione, nessuna causa civile, perché qualche quotidiano ha scritto Ronaldo fa causa civile alla Juventus. Non ha mai fatto causa civile alla Juventus per un motivo semplice, perché quando c'è stata l'iscrizione delle parti civili a Torino e qualcuno scrisse Ronaldo in arrivo con i suoi agenti con valigette piene di documenti. E lì tutti ci aspettavamo che arrivasse un tir, no? Con Ronaldo, le valigette. Non è venuto nessuno. Non si è presentato nessuno. E quindi Ronaldo, non iscrivendosi come parte civile, non può fare causa alla Juventus per richiedere i soldi in un tribunale. Li ha chiesti tramite federazione con un piccolissimo problema. Che Ronaldo non ha mai firmato alcun modulo della federazione. E infatti il primo arbitrato l'ha perso. Tra poche ore conosceremo l'esito del secondo arbitrato. E quando arriverà l'esito? E quando arriverà l'esito? Vediamo. Perché erano 19, poi sono diventati 39, poi sono diventati 56. Eravamo arrivati quasi a 100 milioni. La Juventus deve... Allora, sono andato a recuperare un articolo bellissimo. Poi vi dico, immaginate voi dal quale quotidiano arriva. Lo lascio alla vostra immaginazione. Se la Juventus perderà la causa con Ronaldo, dovrà 56 milioni a Ronaldo, in più dovrà pagare alla FICC una multa dai 20 e 60 milioni. Quindi siamo arrivati a circa 115-120 milioni in tutto. Cioè questa carta Ronaldo doveva costare alla Juve circa 120 milioni. Ora, tra poche ore, vediamo quanto costerà. E poi dovremmo fare una puntata da ore e ore. A me sa che sarà un po' gratis sta carta Ronaldo. Grazie Mirko! Ciao a tutti!